Rimanendo in ambito solidale, la spesa sospesa è un progetto che sta portando avanti la Coldiretti e il progetto fa bene in parallelo presso il mercato di Campania Amica in piazza Vittorio Veneto, proprio nel centro del capoluogo piemontese. Coldiretti Torino e Snodi Caritas proseguono nell'iniziativa di solidarietà spesa sospesa. Questa settimana vi proponiamo le interviste registrate al mercato prenatalizio di Campania Amica in piazza Vittorio Veneto a Torino. Abbiamo sentito Tiziana Ciampolini, responsabile di Snodi Caritas, che nell'ambito dell'iniziativa spesa sospesa presenta il progetto fa bene mercati che vede cittadini e produttori donare cibo che viene offerto alle famiglie torinesi meno abbienti. Il progetto fa bene è un progetto che è composto di tante parti diverse. Una di queste parti è la donazione nei mercati Coldiretti. Cosa succede nei mercati Coldiretti? I diversi produttori partecipano alla raccolta donando un po' del loro prodotto ma partecipano anche i cittadini perché mentre fanno la spesa per loro fanno la spesa anche per qualcuno che è in difficoltà. Tutto viene raccolto nello stand fa bene e in giornata senza stoccaggio viene offerto a persone in difficoltà in due modi. Uno ci sono una serie di famiglie in difficoltà che vengono a fare i volontari sul mercato e contribuiscono nelle attività di volontariato dell'associazione fa bene. Non parliamo più di beneficiari, non parliamo più di poveri, parliamo di persone che vivono un momento di difficoltà e che cercano di contribuire insieme ad altri cittadini a rendere questo momento di difficoltà più breve possibile. Una parte di questo cibo viene invece donato alle associazioni che si occupano per esempio di senza fissa dimora, di cibo nelle comunità quindi ci sono diverse forme per ridistribuire e rimettere in circolo sia le energie dei cittadini ma sia il cibo che non è invenduto, che è donato ed è cibo di altissima qualità. Una delle logiche del progetto fa bene mercato è proprio questa del rimettere in circolo ma la seconda logica per noi molto importante è che alle persone più in difficoltà diamo veramente il meglio perché il dover chiedere cibo incide profondamente nella dignità delle persone. Poter ricevere il miglior cibo possibile restituisce dignità e restituisce il senso del cambiamento possibile. Il progetto fa bene è una delle tante risposte che la società civile ha messo in campo per l'emergenza coronavirus. Abbiamo assistito a grandissima generosità da parte dei cittadini, è aumentato il volontariato. Noi stiamo assistendo ad una povertà che non è più emergenziale, è strutturale e soprattutto stiamo assistendo a delle situazioni molto gravi legate al fatto che le persone non hanno più il lavoro. La collaborazione con Coldiretti ha questo significato specifico perché oltre al fabene mercato stiamo mettendo in campo delle altre esperienze per permettere di aprire le porte delle aziende agricole e fare in modo che dalle aziende agricole nascono delle nuove opportunità di lavoro e dei nuovi servizi di welfare di comunità. Questo è il senso anche della collaborazione tra Fabene, Snodi e Coldiretti. In chiusura di servizi Roberto Grassi, coordinatore di Campagna Amica Torino, spiega le caratteristiche del mercato di Campagna Amica che Coldiretti Torino allestisce in piazza Vittorio Veneto. Sono presenti una sessantina di banchi di produttori agricoli in vendita diretta. I prodotti che si trovano al mercato sono vari, nel senso che abbiamo tutto ciò che è di stagione, quindi frutta e verdura di stagione, i formaggi, abbiamo il miele, abbiamo la carne, abbiamo anche una rappresentanza delle aziende che arrivano da altre regioni d'Italia, come ad esempio l'olio che arriva dalla Liguria e gli agrumi che arrivano dalla Calabria e dalla Sicilia. Nei mercati di Campagna Amica in questo periodo di pandemia ci siamo organizzati per garantire gli acquisti in sicurezza ai consumatori e una giusta protezione anche ai produttori presenti dietro i banchi. Ogni domenica ci attrezziamo per monitorare la temperatura delle persone all'ingresso, dopodiché verifichiamo che non ci siano mai troppe persone presenti in contemporanea al mercato. L'area del mercato è molto ampia perché parliamo di oltre 2000 metri quadrati, su quest'area sono distribuiti i 60 banchi e possono accedere fino a un centinaio di persone, garantendo così acquisti in sicurezza per tutti. Il mercato di Campagna Amica di Piazza Vittorio si svolge ogni terza domenica del mese e in quei mesi che hanno 5 domeniche ripetiamo l'edizione appunto nella quinta domenica.